Ma quando si arrivò alla girata, e anch'io di girare non mi riuscì, i riuscinetti dalla gran velocità che avevano cominciarono a sviluppare, come fossero sul ghiaccio. Non ci riusciva più a fermare, e ci preparammo a un grosso profonore. Siete stiando! No, che dolore! Io mi feci male a una gamba e a un ginocchio, ma il più di tutti si fece male il mio fratello. Si sbucciò un gomito e una coscia. Tutti si perdeva sangue, si era tutti feriti. No, che dolore! Grazie a tutti.